Una giornata dedicata alla prevenzione, voluta da Lions, che a Salerno con Universo Umanitas hanno allestito un vero e proprio villaggio della salute. Sette visite specialistiche, un vero e proprio screening di cui hanno approfittato centinaia di persone. In Campania e in tutta Italia, perché questo Lions Day per noi è la giornata dell'anno che scendiamo in piazza per stare vicino alla popolazione e trasmettere il messaggio che la prevenzione è fondamentale. Noi ci teniamo molto, facciamo tutto quello che è possibile. Infatti oggi qui con l'Universo Umanitas abbiamo moltissimi medici volontari, come sono tutti i Lions, per poter essere a disposizione della popolazione. Si iniziava dalle 9 del mattino, ma già dalle 8 e 30 la gente è cominciato a prenotarsi per evitare la calca. Sì, vale la pena perché poi aspettare nelle strutture pubbliche ci vanno 6-7 mesi. Poi è gratis e subito si fa. Cioè che poi quasi completo in poco tempo. In poco tempo, è gratis, questo è importante. Benvenca. Benvenca. E' una sicurezza in più, insomma, se c'è la possibilità. E poi si fa prima rispetto alla sanità. E' un check-up che praticamente non avevo mai fatto in questi anni. I controlli vanno bene, la prevenzione è fondamentale, quindi gli screening vanno fatti. E magari lo facessero anche con la sanità pubblica. Vabbè, piano piano, non lamentiamoci sempre, accontentiamoci, approfittiamo di queste belle giornate di screening gratuiti. Pressione a posto, ora si va a correre? Abbiamo già dato, abbiamo già corso, quindi abbiamo monitorato dopo aver fatto attività agonistica, quindi va tutto bene. Anche visita cardiologica o si ferma qui? La visita cardiologica, sì, faccio tutto lo screening. Mi trovo, faccio tutto. Già da prima delle 9 del mattino, già iniziate di varie persone, insomma, tra l'altro è incoraggiante per voi, però è un brutto segnale per la sanità. Sì, purtroppo è un brutto segnale per la sanità, perché come tutti sappiamo, purtroppo ci sono liste di attesa lunghissima per effettuare degli esami specialistici. Noi come Humanitas, in collaborazione con i Lions, in collaborazione con i centri Verringia, cerchiamo di dare un supporto alla popolazione sia di Salerno che di cittadini limitrofe. Cerchiamo in tutti i giorni di essere vicino alla popolazione con queste giornate di prevenzione. La prevenzione è importante, principalmente capisco che molte persone magari non si vogliono sottoporre alla prevenzione per paura di scoprire qualcosa. Ma ricordo intanto che a Napoli l'anno scorso, grazie alla nostra prevenzione, abbiamo salvato una persona che aveva un infarto in atto.